Pietro, allora cosa hai inventato all'ultimo giro? Allora, all'ultimo giro sono stato un po' fortunato perché ero quinto e si sono presi il terzo e il quarto, li ho incrociati e sono andato a fare il terzo posto. Sei contento del risultato? Oppure quella pole position che avevi segnato nel tuo gruppo venerdì? Sì, potevo fare un po' meglio ma sono comunque contento. Bravo, complimenti. Grazie.